Musica Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati con noi, ben ritornati anche con i nostri graditissimi ospiti. Ve li presento subito, poi vediamo anche il tema della serata, tanto sarà una settimana particolarmente calda che si vivrà di giorno in giorno, ma noi cerchiamo di fare anche delle proiezioni, valutare un po' il polso della situazione per i presenti che rappresentano comunque una parte significativa di lavoratori, imprese, territori o partiti politici eccetera. E allora, ben arrivata Silvia Covolo, deputata della Lega, Sesta Commissione Finanza, grazie di essere qui con noi. Buonasera, grazie per l'invito. Luigi Bisato, segretario regionale Veneto PD, grazie anche a lei. Piero Cecchinato, più Europa, grazie. Buonasera, buonasera. E quindi anche l'Europa che in qualche modo c'entra sempre. Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto, socialisti italiani, grazie di essere qui con noi. Buonasera. E ben ritornato anche Carlo Valerio, presidente Confapi Padova. Grazie. Allora, settimana difficilissima, timori dell'attacco dei mercati che possono andare a compromettere una instabilità, perché di fatto non abbiamo una stabilità diffusa, ma soprattutto siamo ancora sotto lo scacco di un giudizio di Moody, del rating e poi ci sarà standard in pull, insomma della finanza che ci costringe o non ci costringe. Adesso vediamo a certe scelte. Non piace la manovra come è stata presentata, vedremo poi la risposta che ci sarà da parte dell'Europa alle ulteriori osservazioni che sono state presentate da parte del governo, dal ministro Tria. E sembra non piacere però anche un po' in generale a chi manifesta l'opinione pubblica ai partiti politici dell'opposizione in Italia. Ma quali sono un po' le ragioni a fondamento di tutto questo? Motivate e immotivate. Se si contenta da una parte si scontenta dall'altra. Insomma, poi in fin di conti, elezioni recentissime, risultati per quel che riguarda il Trentino Alto Adice, la Lega è cresciuta ancora e quindi un 17% molto interessante su Bolzano. Quindi la popolazione, la base sostiene e confida moltissimo. Grandi aspettative. Allora, ne parliamo insieme ai nostri ospiti. Dopo però lo spazio dedicato allo spiccigello del Veneto, che come sempre ci accompagna all'inizio delle nostre trasmissioni. Quindi ci vediamo tra pochissimo.